E adesso ormai io sono Zetese e ben ritrovati qui su Expeditions Rome, ci siamo appena lasciati dopo aver parlato con Krupatra in casa di Lukullo E niente, dobbiamo andarcene, dobbiamo fare alleanza con loro Vogliamo fare la guerra ma abbiamo bisogno di più legioni, quindi il discorso era che dobbiamo andare a parlare con i nostri, con quelli di Illunia Con il popolo di Illunia, quelli di Namonases, Nemonane, insomma, ecco, loro Allora Dobbiamo andare in là, per cui farei che andare ad Apollonia, nel mentre la regione potrebbe effettivamente andare qui Così facciamo un po' di razioni Entriamo per recuperare l'arco, vediamo se il reroll ci ha dato qualcosa di migliore Adesso non ricordo male, avevamo lasciato farsi un arco nuovo per Iulia, ma E quello precedente era uscito un po' No, era uscito buono, ma non eccellente, nel senso che perdeva comunque due di Accuracy E non ci piace perdere Accuracy, soprattutto visto che ultimamente il doppio lo sta sempre missando Oh, missando tutte e due, per cui Accuracy no, è sempre bassa l'Accuracy, non ci piace Però che skill ha? Fire Arrow, ok Half Draw E con un doppio... Over Drone Shot Ecco la metà dell'Accuracy, no Ancora peggio del precedente Eh, ci dà il salvage, ma non ci dà regular... 41 regular e 20 good Ma per farlo, 41 regular e 20 good Eh, solo 56, 28 e in più una bowstring Ci riprovi ancora, ma deve andarci proprio di gran lusso per riuscire ad arrivare a un... A un 13 Saltiamo, restiamo così Di che altro? Power Management, cos'è che c'ha lei adesso come inventario? C'è quello con l'Occuracy Switch, 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 metti questo Skill, chi è capito? Chi è salito di livello, scusate, DNA era? Eh, sì, perché lei è sempre leggermente indietro Sento che è arrivato dopo Questo non mi dispiace Ancora che passiva Ehm... E quindi niente, il... No party Ehm... No Cloud Post Management Sto ancora a Replenish, 35 ore, sì Tanti quelli li abbiamo Replenish tutti, siamo a posto, li abbiamo fixate Ehm... I tizi stanno bene, no? L'unica cosa è che volevamo avere quel cavolo di Arcoma E poi non sarebbe male avere dei giavellotti in più, visto che abbiamo solo un tizio che ha giavellotti Eh... Va bene Non abbiamo neanche visto il mercato cosa ci chiedeva Ehm... Un animale abbandonato No, lasciamolo Meglio non rischiarcela Ma, scusate, dove è che sono? Ah, ok, stiamo arrivando Piano piano Ma qui c'è un osservatorio Aspetta che andiamo qua E ci zooma un po' Che tira la mappa Hai scoperto anche un tesoro buono? Ehm... Sì, va bene Non è un problema In cui le direzioni ne abbiamo parecchie Ehm... No, andiamo prima a prendere il tesoro Arco berbero E' già... A me ho 10 di accuracy Però niente di emozionante Desert warrior carbs Va bene E qua cosa che c'è? Ah, ok, abbiamo di nuovo Il restock L'altro berber bow Va bene Ma se smantelliamo tra l'altro il bow Non ci dà degli elementi per il Per fare un altro arc Vabbè? E tolgo tipo questo berber bow Ha dei priest in salvage Ma no, non ci dà del coso per fare l'arco Comunque Quelli sono limitati Ehm... Court of Evans Sì, andiamo sempre noi Il nostro gruppetto Di baldigioveni Mi spiace perché ci ha dato L'achievement di completare Una romance Ma Ehm... Quindi vuol dire che per tutto il resto Del gioco non avremo più niente a fare con Yulia Mi spiacerebbe un po' Cioè, sembra tipo appena iniziata Ah... Tribal meeting site Grazie Grazie Ehm... L'onore è mio ma vorrei sapere con cosa sto entrando Che posto è questo? Che posto è questo? O che posto è il nome di solo Che posto è il nome del gioco E l'onore Cioè, ogni anno Se chiudere gli stagini Che ci si rincazano Per risolgere E rincazano Che risolone Dicazioni Ok, a poco Questa è l'esitore La spazzesca è l'esitore E il anche un'opportunità Che personale Che loro Per risolvere Per risolvere È questo Chiaro Per risolare Non ciò che Per risolare È Non ciò L'esitore Ma più Non ciò Il Chiaro Attraggia Merchanti da tutto il resto di Nazamones e di più dove ci sono persone, ci saranno sempre le persone chi sono tutte queste persone? i mercenari, i ricchi e i pochi tutti hanno una razza di essere qui proprio come tu alcune persone facono le cose succedere altri guardano le cose come succedono è per te di decidere cosa saranno un creatore o un cuore per forza, Maker c'è qualcosa che dovrei fare? ha senso ha senso cosa devo aspettarmi durante gli incontri? potrei incontrere alcune hostilità non sbagliare le terribie minori faranno quello che mi chiedo di fare sono gli antici delle terribie majori che mi preoccupo ok ok potrebbero esserci dei problemi? alcuni consigli? non parlare di non parlare cerchi di essere rispetto e diplomatici in un modo questo è il nostro senato tutto sarà bene se non ci offendiamo nessuno ok non c'è qualcosa di cui mi devo preoccupare in particolare che cosa hai detto? perchè si è brinciato con Udad? in quanto riguarda la sua influenza Udad è in pari con Medor ma che sia più di un tradizionale si prega a i nostri amici due volte al giorno a mattina e a mattina sperando di rispondere alle loro domande ci sono i nostri amici ci crediamo che i nostri amici ci guardano per noi per questo ciò ci pregoiamo eeeh perchè Wormak questo Wormakson mi darà dei problemi un uomo cercando di imprezzare i loro amici sempre una cosa pericolosa è riconosciuto per le sue promesse in combattia ma la sua capacità diplomatica resta molto da essere desiderata un uomo dopo il mio corso e credo che dovremmo va bene allora vediamo un po' eeeh è vero puoi offrire qualcosa per il nostro gusto raffinato? naturalmente tu hai venuto all'interno il nostro vino si rivolgono ai nostri di Carthage e alcuni in effetti si rivolgono si rivolgono si rivolgono e mi racconta e mi racconta se trovi qualcosa di interessante eeeh vedi solo il vino o anche gli ingredienti? non ho molti di gravi interessanti per te quest'anno la vintage era abbastanza fragile fortunatamente questo significa che abbiamo dei migliori vinaigli e potrei potremmo direzione al nostro eccellente locale in caso che vuoi produrre alcuni dei tuoi roma malsami perché no? 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 ma cosa serve tutto questo vino però? no? 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 cosa posso comprare qua? mh si affiliata con qualche tribù in particolare? ovviamente cosa vende? ah, un po' di tutto ha molte razioni e pochi schiavi ma la razione non abbia altro problema va bene ah qua c'è un altro meno non è l'ideale orientarsi così tutto il buio hai bisogno della mia guida sono uno straniero di queste terre questo è precisamente perché ho bisogno di te la guida che ho cercato è per le terrenze più oltre questo tu sei un guerriero non sei? se la morte è quello che ti trattavi deve essere per risolvere che tu avresti la morte e le terrenze della morte non proprio mio nome è Axel sono quello che tu puoi chiedi un filosofo in tua lingua ma anche per le loro persone sono un sciaman mio lavoro è studiare e esplorare le molti terrenze che non sono più e come le differono da cultura a cultura non è E inizierei da quello di Caronte E riva? Ora, che suona piacere Ma ti caratterisci il tuo proprio money all'Underworld? Sì, anche noi crediamo che sia meglio sbagliare i morti con i loro pericolori In questo modo potrebbero vivere una buona vita in Sekhet Aru Ehm, la tua anima è separata dal tuo corpo e viaggi a questo e il nostro altro Ehm, al di là Interessante Dobbiamo trovare il nostro proprio modo all'Underworld Ma dicono che il passaggio è diverso per ogni persona Riesci a passare oltre il cerbero e i giudici determinano il tuo destino Assessos Abbiamo 42 di loro È meglio di sapere i loro nomi e i pezzi che non hanno commettato Una volta che passi il loro giudizio Anubis pesca il tuo cuore contro una pezza di Marte Un cuore cuore non è pesato Eh, le persone virtuose finiscono nell'Elysio e quelli gli altri soffrono nel Tartum Questo Elysium suona come Sekhet Aru Osiris permette solo i spiriti puri Non posso sperarlo però di sicuro finché non viaggerò a Odyss in personale Tu sei vero, ovviamente ma ho un'idea Guarda Questa città è chiamata Conna-Eye Dicono che ti prenderà alla terra dei morti temporaneamente sarebbe bello se avessi provato e mi raccontassi cosa vedi lì Allora non lo fai tu E se non lo trovassi dietro Va bene, proviamo Tu paura Confermo delle colonne e una barca spezzata Cosa c'è? Che tipo di gatta? Chi sei? Non sembra verosimile Sì, è tutto il mio culo, davvero Non ero un buon ucchio I ucchi hanno di vivere 9 le cose moriamo e poi siamo ritori Ma un ucchio è ritorno come un uomo ucchio Sono tu in una vita passata Ah, ero morto? Ricordi di morire? No Molte persone ricordano di così importanti eventi in loro vita Non è tu che sei morto E cosa devo fare qua? Una domanda molto buona domanda Dovete ricordare il tuo proposto? Dovere Non significa che il tuo vita è definito dagli ordini di qualcuno altra? Nessuno mi complica a seguire il loro ordine Ma ancora ti è Il loro di è come ti parlano seguire loro ordini senza rendere senti forse Può sembrare vissuto a te, ma la sede viene con l'idea e l'identità. Sento te perché sono te, o invece, ero te in una vita passata. Non mi piace la vita come un uomo, ma tu puoi salvare me da guidare una buona vita e non causare dolore. Solo allora siamo riusciti come un gatto. Ma quindi un gatto è come forse la cosa migliore? Un gatto gigante? Non voglio causare dolore. Ma cosa vuoi? In perseguire le tue ambizioni, tu hai scoperto quelli nel tuo passaggio. Tu devi chiederti te stesso se è tutto worth it. Ehm... devo fare quello che devo? Che cosa propone? No. No. O fa per ora non voglio causare, ma senti un grosso. E tu sei un buono. Oh, no. No, questo è tutto molto confusante per te, ma mi faccio semplicemente. Ti presento con due porte, l'uno di loro porta all'Elysium di Reeds, l'altro volta alla Chorda dell'Evano. Pensi su questo. Figuri a chi si sente certo, e vai a dove il tuo cuore porta a te. Vorrei andare... No, ma penso che quella mi rimandasse... Ma non volevo andare nell'Elysium. Penso che quella mi rimandasse giù, che c***o? Scusi, ho detto prima quella del gatto e poi l'altra, quindi... Prima questa la conferma e l'altra no. Molto strano. Molto strano. Molto molto strano. Molto strano. Non mi ero accorto che il video fosse durato così tanto. Io mi invito, come al solito, a lasciare un mi piace. E vabbè, no, vediamo un attimo come finisce qua il discorso del gatto. Tu sei tornato. Praticamente. Dicami cosa vedi prima che le visioni fanno. Un gatto gigante. Un gatto gigante. A veicolo. Porrezzo. Ma accettate questo amulet come un piccolo token della mia immensa gratitudine. Ho spero di vederti ancora quando il mio libro è finito. ok dicevo come al solito mi piacere un commento e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti e buona giornata